Quinta giornata del campionato di prima categoria nel Girone C. E come si prevedeva già in fase di presentazione di questa annata calcistica, c'è una mucchiata in testa alla classifica. Ben quattro squadre nello spazio di un punto. Con la sosta di ogni domenica, di ogni squadra, certamente la classifica non è ben delineata, però già possiamo vedere che in testa alla classifica ci sono Città di Soverato e Promo Sportolamese a 10 punti, seguite da Pino Donato Taverna e Real Montepaone a 9 punti. Seguono poi ben cinque squadre a quota 7 e a dimostrazione che questo è un campionato molto equilibrato che si lotterà fino alla fine per sia la posizione di vittoria del campionato che di quelle successive per quanto riguarda i play-off, ma anche in coda non è tanto facile perché già quattro sono le squadre che si sono un pochettino allontanate con quattro punti Laureana, due punti Santonofrio e Rosarnese, un punto Polisportiva a Bariluini. Ma veniamo alla giornata di oggi. Riposava la squadra di Taverna e quindi le altre squadre hanno dovuto attendere il risultato in particolare quello di Soverato dove si incontravano appunto Città di Soverato e Real Montepaone in un derby dagli antichi ricordi che oggi si disputa in prima categoria. Finita 0-0, il Soverato probabilmente non sfrutta il fattore casalingo dove tre vittorie consecutive però probabilmente non si deve lamentare più di tanto perché ha giocato buona parte della sua gara in dieci uomini per un'espulsione maturata nel primo tempo che quindi ha messo la squadra di Matteo Sgro nelle condizioni di dover certamente disputare e raddoppiare le proprie forze per stare attenti anche alla forza del Real Montepaone di Pisano che certamente non stava qui a guardare. Comunque uno 0-0 che accontenta tutti non sposta di tanto la classifica e quindi ne approfitta la promosport di Lamezia che vincendo il proprio incontro casalingo di sabato contro il Bivongi Pazzano arriva a 10 punti anche in virtù dei tre punti assegnategli dalla giudice sportivo per la trasferta di domenica scorsa a Fabrizia con il risultato a tavolino per 3-0. Per quanto riguarda il resto della giornata si riprende il Pizzo che arriva alla seconda vittoria consecutiva dopo un inizio abbastanza disastrato adesso con i suoi bomber Fanelli-Ghiete regola tranquillamente il Santonofre per 2-0 e quindi si porta adesso a 7 punti tra le squadre e con quelle squadre che seguono in classifica le prime della classe. Va bene anche la Sersalese 4-0 alla Laureana smentendo quelle che erano le voci dell'inizio del campionato che dicevano che la Sersalese probabilmente non riusciva a portare avanti un campionato ma poi basta una domenica basta poter vincere una partita e quindi si gioca con tutta serenità e quindi anche la Sersalese a 7 punti guarda bene la zona alta della classifica. La Real Fabriziese si riprende dalla sconfitta interna contro la Promosport e va a vincere a Catanzaro Sala contro la Prasar 1-0 il risultato finale mentre pareggiano 2-2 Rosarnese e Stella Mileto due squadre che sono nella Rosarnese che è in basso alla classifica la Stella Mileto che invece a 7 punti ha un campionato abbastanza tranquillo. Per ultima vediamo la gara tra la Polisportiva Palermiti e il Piscopio con la vittoria dei Vimponesi per 3-2 nei confronti di una Polisportiva Palermiti che probabilmente sperava di ottenere la prima vittoria la prima storica vittoria in un campionato di prima categoria ma così non è stato dopo un primo tempo abbastanza tranquillo e sereno finito sullo 0-0 era poi il Piscopio a portarsi in vantaggio con un calcio di rigore pareggia il Palermiti con un colpo di testa di Berberi su calcio d'angolo ma poi alcune disattenzioni difensive da parte della squadra del Presidente Truglia consentono al Piscopio di portarsi sul 3-1 e quindi poter giocare in serenità il resto della partita ma poi ci pensa De Feo per un definitivo 3-2 ma poi non c'è più il tempo la squadra di Maurizio D'Amico deve soccombere ancora una volta la seconda sconfitta consecutiva in casa anche se si parla di casa per modo di dire perché la prima l'ha giocata sul camponeo tru di Gasperina e quella di oggi al curto di Catanzaro Lido non avendo ancora a disposizione il mimmonotaro di Palermiti è molto amareggiato il tecnico palermitese perché dopo la cavalcata dello scorso anno in seconda categoria probabilmente si aspettava un campionato diverso però certamente il Palermiti non deve fare un campionato d'avanguardia deve soltanto stare attento a potersi giocare con serenità questo campionato di prima categoria sperando probabilmente di non arrivare anche nell'ultima posizione ma gioendo di quello che fino adesso hanno ottenuto nel paese delle presenze cadazzaresi che certamente per la prima volta si affacciano proprio a un campionato di tale importanza